Una donna di 33 anni, docente di lingua glossa, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale, verificatosi questa mattina a Randazzo sulla Statale 120. La vittima stava dirigendosi a Maniaci, dove insegnava. I carabinieri di Aciriale hanno arrestato Rosario Palermo, 61 anni, acese, l'uomo accusato di aver ucciso nel 2012 la 22enne Agata Scuto, figlia della sua convivente. E sulla morte di Agata Scuto e l'arresto del patrigno, Rosario Palermo, abbiamo sentito il comandante della compagnia carabinieri di Aciriale, il capitano Stefania Riscolo. Oltre 83.000 nuovi casi covid in Italia, in Sicilia o contagi in calo, ma crescono i ricoverati. Ritorno a scuola degli studenti a partire da oggi, intanto nel fine settimana si sono registrati cinque decessi per covid fra Paterno Adrano e Santa Maria di Licodia. Il comune di Biancavilla lancia la locandina, io mi vaccino per incentivare la vaccinazione fra i 5 e gli 11 anni. Nomina e giuramento stamani a Santa Maria di Licodia per il neo assessore Carmelo Furnari, non ancora assegnate le deleghe. Finanziamento da 940.000 euro per la ristrutturazione del campo sportivo sito nella frazione belpassese di Piano Tavola, i lavori riguarderanno l'intera struttura. La scorsa settimana la giornata dell'alfabetizzazione sismica, Marco Neri, la prevenzione riguarda tutti. Buonasera da Ciac News. Incidente mortale questa mattina lungo la strada statale 120 in territorio di Randazzo. Nel violento impatto tra un'auto e un camion ha purtroppo perso la vita Gina D'Amico, 33enne, docente di lingua glossa, che stava per recarsi nella scuola di Maniaci, dove insegnava. In merito abbiamo un servizio. Tragedia questa mattina lungo la strada statale 120 nel tratto fra Randazzo e Monte La Guardia. Nel violento impatto fra un'autovettura e un camion ha perso la vita una donna di 33 anni, e Gidia D'Amico di lingua glossa, docente in una scuola di Maniaci. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Da una prima ricostruzione sembra che la donna abbia perso il controllo della sua auto, forse a causa del fondo stradale ghiacciato. Proprio in quel momento è sopraggiunto un camion dalla direzione opposta, il cui conducente non è riuscito ad evitare l'impatto con la macchina. Per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare. A bordo del mezzo pesante è un 49enne di Randazzo, che ha riportato ferite non gravi. È stato poi portato in ospedale, per accertamenti, sul posto presenti per i rilievi carabinieri e poi i vigili del fuoco, ambulanze del 118, vigili urbani e personale ANAS. Il dramma si è consumato questa mattina intorno alle 8 e 30, quando Gina, come la chiamavano tutti, con la sua auto stava per recarsi all'istituto comprensivo Carlo Levi di Magnace, dove insegnava. Lascia il marito e due figli piccoli, un bimbo di 5 anni e una femminucce di 3. La notizia della morte della giovane professoressa di lingua glossa ha naturalmente gettato nello sconforto tutti coloro che la conoscevano, un pugno nello stomaco per i familiari e per i suoi colleghi, nonché per i suoi ragazzi. Un destino crudele per una giovane insegnante che si apprestava a raggiungere i suoi ragazzi a Magnace, una morte assurda per una giovane madre che stava muovendo i primi passi nella sua carriera, nel mondo della scuola. Un dolce sorriso, spendo troppo presto. I funerali di Gine verranno celebrati mercoledì alle 15 e 30 nella chiesa madre di lingua glossa. Un'accese di 61 anni, Rosario Palermo, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Acireale con l'accusa di omicidio. L'uomo è ritenuto il responsabile dell'uccisione della 22enne Agata Scuto, figlia della sua convivente. Sentiamole di più. Dopo 9 anni, la morte di Agata Scuto, di 22 anni avvenuta ad Acireale nel giugno del 2012, potrebbe non essere più un cold case, un caso irrisolto. Chi l'ha uccisa potrebbe ora avere un nome ed un volto. I carabinieri di Acireale, su richiesta della procura di Catania, hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dalla GIP del Tribunale Etneo nei confronti di Rosario Palermo di Acireale. L'uomo è accusato di omicidio aggravato e di occultamento di cadavere. Le indagini sono scattate nel 2020, grazie ad una segnalazione arrivata durante una puntata della trasmissione Chi l'ha visto. Una persona non identificata aveva detto che il corpo della ragazza epilettica e con un problema ad un braccio e ad una gamba era nascosto nella cantina della casa della madre. In realtà la segnalazione si era dimostrata falsa di Agata, però non c'era nessuna traccia. Scattano, come detto, le indagini che portano i carabinieri a controllare la cantina di casa della madre della ragazza e tutto il terreno circostante l'abitazione. Le ricerche però non hanno dato alcun esito. I carabinieri sono andati avanti ricostruendo le ore antecedenti alla scomparsa della ragazza attraverso le dichiarazioni di quanti l'avessero vista quella giornata. Non solo, i carabinieri hanno attivato anche la ricostruzione delle azioni e gli spostamenti dei familiari di Agata e anche di Rosario Palermo, convivente della madre. Dalla ricostruzione è emerso come Agata era una ragazza molto riservata. Soprattutto nell'ultimo periodo pare non uscisse più da sola da casa, né aveva rapporti con altre persone. Palermo inoltre avrebbe mentito agli inquirenti rispetto ai suoi spostamenti il giorno della scomparsa di Agata. Sarebbe stato inoltre lo stesso Palermo a mettere i carabinieri sulla pista giusta. Pare che l'uomo, intercettato mentre era da solo nella sua auto, parlando ad alta voce, temendo di essere arrestato, avesse detto che Agata era stata uccisa per strangolamento, con il corpo poi bruciato e fatto sparire all'interno di un accasolare a Pachino. Non chiaro perché l'uomo abbia ucciso la ragazza. E sulla morte di Agata Scuto e sull'arresto del patrigno Rosario Palermo abbiamo ascoltato il comandante della compagnia dei carabinieri di Acireale, il capitano Stefania Riscolo. Nella notte i carabinieri della compagnia di Acireale, sul delega della procura distrittuale di Catania, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato ritenuto responsabile dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere mai ritrovato della 22enne Scuto Agata scomparsa da Acireale nel giugno 2012. L'indagine, iniziata nel settembre 2020 e condotta attraverso attività tecniche, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, all'epoca convivente della madre della vittima, sia in ragione del particolare rapporto instaurato con Agata, sia per il suo tentativo di inquinamento delle prove, fornendo anche un falso alibi circa i propri spostamenti nel giorno della scomparsa della ragazza. Passiamo adesso all'aggiornamento del bollettino Covid che oggi in Italia riporta 83 mila nuovi casi. Aumentano gli ospedalizzati in Sicilia ma i contagi sono in calo, crescono i ricoverati in ospedale, in aria critica e non sentiamo. Meno casi ma anche meno tamponi, così come ogni lunedì i nuovi positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore sono 83.403 su poco più di 541.000 test esitati tra molecolari antigenici con un'incidenza del 15.4% in calo rispetto a ieri. Crescono però gli ospedalizzati in aria critica e non in rianimazione. Nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite ci sono 26 malati intubati in più per un totale di 1.717, mentre nel reparto ordinario Covid i nuovi posti letto sono 509 per un totale di oltre 19.000. I decessi con e per Covid 287, guariti oltre 76.000. Gli attuali positivi aumentano di oltre 6.000 unità per un totale di oltre 2.500 mai così tanti da inizio pandemia. In Sicilia poco più di 4.000 nuovi casi su oltre 24.000 tamponi processati tra molecolari antigenici, quasi 1.000 guariti, decessi 23 che si riferiscono a giorni precedenti. Gli attuali positivi aumentano di poco più di 3.000 unità per un totale di 176.754 siciliani col Covid. In aumento anche gli ospedalizzati in rianimazione, due posti letto in più, 170 il totale dei malati gravi. In area medica invece 46 nuovi ricoveri per un totale di 1.392. Catania la provincia con più casi, poco più di 1.000 le nuove infezioni, un quarto del totale dei casi in Sicilia nelle ultime 24 ore. E oggi gli studenti sono tornati in Sicilia di nuovo in presenza. Nel fine settimana si sono registrati 5 decessi per Covid tra Paternò Adrano e Santa Maria di Licodia. Il servizio. Oggi è il giorno della rientro a scuola in presenza degli studenti. Un ritorno in classe non sereno ma offuscato dal caos determinato dall'incertezza degli ultimi giorni rispetto ad un possibile avvio delle lezioni in DAD o addirittura un prolungamento rispetto alla sospensione delle lezioni stesse. A Catania gli studenti sono sul piede di guerra. Dicono che non vogliono la DAD, ma lezioni in presenza ma in sicurezza. Da qui la loro richiesta di essere dotati di mascherine FFP2 e di poter arrivare ad uno screening di tutti gli studenti prima del ritorno in classe. Se non si ottengono risultati e con i numeri che continuano a salire non sono esclusi scioperi. Entrambi i problemi possono comunque essere ovviati rapidamente. Le mascherine FFP2 su disposizione dello Stato hanno un prezzo calmierato anche in farmacia con un costo di 0,75 centesimi di euro a mascherina. Per quanto riguarda i tamponi invece è stata sottoscritta una convenzione con i farmacisti italiani che sottoporranno a tampone gratuitamente tutti gli studenti che vogliono sottoporsi a controllo. Per poter ottenere il tampone gratuito occorre però presentarsi in farmacia con una richiesta del medico curante. Dalle scuole alla contagio. Purtroppo nel fine settimana sono avvenuti 5 decessi per covid tra i comuni di Paternò, Adrano e Santa Maria di Licodia. Mai così tanti in pochi giorni durante questa quarta ondata di contagi. A Paternò sono morti Nino Vinciullo di 66 anni e una donna di 60 anni entrambi non vaccinati e ricoverati rispettivamente all'ospedale di Biancavilla e al San Marco di Catania. Due decessi anche ad Adrano di due uomini di 83 e 75 anni ricoverati sempre a Biancavilla. Non noto se erano vaccinati. Infine un ultimo decesso anche a Santa Maria di Licodia con una donna di 70 anni ricoverata a Biancavilla. Restano alti i contagi anche se dai comuni le notizie arrivano a Singhiozzo. A Paternò, secondo l'ultimo bollettino fornito dall'ente venerdì scorso, i positivi sono 790. Il comune non fornisce invece il numero degli ospedalizzati. Lo fa l'ASP evidenziando che a Paternò gli ospedalizzati sono 18 con il numero più alto tra tutti i comuni della provincia di Catania. Paternò per numero di ospedalizzati è seconda solo a Catania che fa registrare 92 ricoveri. Non chiaro perché Paternò abbia una tale impennata di contagi e di ricoveri nonostante le vaccinazioni in città sembrino correre. Comuni, per popolazione simile a Paternò come a Cireale e Mister Bianco, hanno rispettivamente 9 e 8 ricoverati. Da capire se a Paternò l'immunizzazione e dunque il vaccino con doppia dose abbia raggiunto quel 75% atteso da mesi. L'ex magistrato Angelo Giorgianni, non avendo il super green pass necessario per poter salire sul traghetto, ha attraversato lo stretto di Messina su una barca di pescatori con cui si era messo d'accordo. L'espediente era già stato utilizzato da altre persone per attraversare lo stretto. Ho attraversato lo stretto con una barca di pescatori perché è sprovvisto di super green pass. Ha detto a Lanza con la nostra organizzazione abbiamo presentato una richiesta di infrazione contro l'Italia all'Europa perché con l'obbligo del super green pass è stata limitata la libertà personale e non garantita la continuità territoriale. Giorgianni è un esponente dei Novax. Incentivare la vaccinazione per i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni e fornire ai genitori le informazioni necessarie per chiarire tutti i dubbi. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa Io mi vaccino promossa attraverso una locandina dal comune di Biancavilla su proposta del consigliere Antonio Bonanno. Sentiamo. Io mi vaccino. È stata intitolata così la locandina realizzata dal comune di Biancavilla al fine di incentivare la vaccinazione contro il covid dei giovani appartenenti alla fascia d'età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Chiunque voglia accogliere l'invito lanciato su iniziativa del consigliere comunale Antonio Bonanno supportata dall'amministrazione e dal consiglio comunale potrà recarsi al punto vaccinale dell'ospedale di Biancavilla. Il punto vaccinale sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18. Sono state coinvolte tutte le attività commerciali del comprensorio che aderiscono all'iniziativa con l'esposizione dello stesso manifesto e offrendo dei piccoli vantaggi, sconti e agevolazioni sui propri prodotti, ha spiegato il consigliere Bonanno. Con Io mi vaccino, amministrazione e consiglio comunale si pongono il duplice obiettivo di promuovere e incentivare la vaccinazione pediatrica e di fornire a coloro che nutrono ancora dei dubbi in merito tutti i chiarimenti del caso. Nell'ex pediatria dell'ospedale di Biancavilla è stato predisposto, spiega l'assessore alle politiche giovanili Giorgia Pennisi, un percorso dedicato dove i pediatri, oltre a effettuare le vaccinazioni, chiariscono ogni dubbio e danno il giusto supporto ai genitori. Un incendio è divampato in piazza della Repubblica Catania a prendere fuoco una baracca. Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco che grazie all'utilizzo di un autobot e di uno schiumogeno sono riusciti a domare le fiamme evitando una vera e propria tragedia. Sul luogo dell'incendio vi erano infatti diverse bombole. Oltre alla baracca pare sia stata lievemente danneggiata una vettura, non si registrano altri danni. Cateno De Luca, sindaco di Messina, ha stamattina rassegnato le dimissioni con una lettera indirizzata al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio Comunale messinese. Le motivazioni saranno rese note non prima del 6 febbraio. De Luca ha firmato la nota di dimissioni alla Rada San Francesco dove prosegue la protesta per manifestare il proprio dissenso contro la norma che prevede l'obbligo del Green Pass rafforzare per l'attraversamento dello stretto. Non si esclude che Cateno De Luca si candidi Presidente della Regione Siciliana. Santa Maria di Licodia e parliamo di politica locale a un nuovo assessore. Il sindaco Totò Mastroianni ha infatti nominato questa mattina Carmelo Furneri, 35 anni, già consigliere comunale, nel primo mandato a sostegno dell'attuale primo cittadino. Ma sentiamo come sono andate le cose stamani. Carmelo Furneri, 35 anni, dipendente di un'impresa privata e il nuovo assessore della Giunta di Santa Maria di Licodia presieduta dal sindaco Totò Mastroianni. La nomina è giunta stamattina seguita subito dopo dalla cerimonia di giuramento. Il completamento dell'organigramma della Giunta Municipale è arrivato dopo due mesi e mezzo dalle dimissioni di Ottavio Salamone che a novembre aveva lasciato l'incarico in amministrazione in seguito alla rottura operata da tutti i sanmartiniani presenti in giunta e consiglio in aperta polemica con il primo cittadino. Fuori dalla coalizione, sempre fra i fedelissimi del deputato regionale Luca Sanmartino, anche l'attuale presidente del Consiglio Comunale Giovanni Butto e il consigliere già assessore Antonio Ladelfa, determinanti nella creazione di una nuova maggioranza trasversale in aula che ha messo all'angolo in minoranza la coalizione governativa. Il neoassessore Carmelo Furnari è stato consigliere comunale a Licodia nel periodo 2012-2017 della lista primavera licodiese che sosteneva la prima sindacatura di Mastroianni. In quell'esperienza consigliare fu pure capogruppo di maggioranza. Mastroianni non ha ancora conferito le deleghe al neo componente della sua giunta. Vedremo se nei prossimi giorni assegnerà gli incarichi lasciati da Salamone o se coglierà l'occasione per una redistribuzione delle deleghe. La giunta municipale Licodiesere, integrata oltre che dal sindaco e da Furnari, è composta dagli assessori Maria Spalletta, vice sindaco e titolare fra l'altro delle deleghe solidarietà sociale, pubblica istruzione e sviluppo economico, Gabriele Gurgone, sport, turismo e spettacolo, bilancio, igiene e sanità, Giuseppe Scandura, lavori pubblici, affari generali. 940.000 euro sono in arrivo a Belpasso dal Governo nazionale per la ristrutturazione del campo sportivo di Piano Tavola. Lo ha annunciato l'assessore Andrea Magri. Sentiamone di più. Accolta la richiesta avanzata al Governo nazionale dal Comune di Belpasso, il campo sportivo situato a Piano Tavola, abbandonato da diversi anni, verrà ristrutturato grazie a un finanziamento di 940.000 euro. Ad annunciarlo l'assessore alle frazioni Andrea Magri. Dopo l'inaugurazione dell'ex San Gaetano, oggi intitolata Nuccio Marino, che segna e ritorna a casa delle società belpassesi, l'amministrazione comunale si muove per restituire anche i giovani delle frazioni di Piano Tavola e Valcorrente, un luogo dove ritrovarsi e fare sport. I lavori di ristrutturazione coinvolgeranno l'intera struttura sportiva, dagli spogliatoi all'impianto di illuminazione, prevista anche la rifinitura del campo con un manto in erba sintetica. Lavori fondamentali per rendere nuovamente fruibile un impianto che nel tempo è stato preda dei vandali e che si presenta oggi in pessime condizioni. Una sfida vinta per l'assessore Magri. Questo è un risultato che voglio dedicare a tutti i ragazzi e giovani che mi hanno dato fiducia nel 2018 e a chi continua tutt'oggi a farlo, ha scritto l'assessore su Facebook. Era il mio vero grande obiettivo in campagna elettorale. L'unica promessa che faceva ai ragazzi era quella di impegnarmi in questo progetto. Oggi è fatta con dedica speciale ai giovani, allo sport, ai ragazzi delle periferie di Piano Tavola e Valcorrente. Si è svolta la scorsa settimana online la quarta giornata dell'alfabetizzazione sismica promossa dall'INGV nazionale rivolta alle scuole italiane con un open day aperto a tutti i cittadini. Fra i relatori anche il vulcanologo Marco Neri dell'INGV di Catania che abbiamo intervistato. È stata celebrata giovedì scorso 13 gennaio la giornata dell'alfabetizzazione sismica giunta alla quarta edizione promossa dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per parlare di terremoti, di vulcani, di ambiente e dell'importanza delle azioni di ogni singolo per la prevenzione sismica. L'iniziativa svoltasi online ha riservato tre momenti alle scuole di ogni ordine grado mentre la parte conclusiva venerdì è stata aperta a tutti. Fra i relatori anche Marco Neri, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in forza all'INGV Osservatorio Etneo che abbiamo intervistato. Alcuni anni ormai l'INGV si dedica a tradurre con linguaggio semplice e accessibile a tutti gli strati sociali della nostra popolazione ciò che svolge sia come attività di monitoraggio che di ricerca. È importante questo collegamento tra i cittadini e l'INGV perché spesso la scienza è fatta con parole difficili e poco comprensibili al grande pubblico. Quindi per noi è fondamentale tradurre le nostre azioni con linguaggi accessibili, tant'è che le giornate si sono articolate distribuendo gli interventi per classi sia di età che di cultura. Quindi c'è stato un intervento dedicato alla scuola primaria, a quella secondaria e poi anche in un pomeriggio del 14 alla popolazione in senso lato, quindi persone più grandi che non abbiano un'età ormai scolare, ma che fossero interessate comunque ad accedere un po' a questo tipo di informazioni. Questo è il senso di questa iniziativa che peraltro non è l'unica perché l'INGV esplica queste attività in numerosi modi. In questo caso l'abbiamo fatto come alfabetizzazione sismica intendendo l'affrontare un argomento specifico dedicato alla sismicità, ai terremoti, ma le nostre attività si esplicano anche in molti altri campi. Senta, vogliamo dare una pillola di prevenzione sismica, un consiglio a chi ci sta seguendo? La pillola qual è? Innanzitutto informarsi, tenersi aggiornati su quelle che sono le caratteristiche geologiche del proprio territorio, possibilmente non perdere mai di vista la necessità di dovere per esempio da un momento all'altro confrontarsi con un evento sismico che di solito non lascia il tempo alla preparazione, il terremoto arriva in modo improvviso e di ci voglia di sorpresa. Per esempio prepararsi una borsa da tenere in un angolo della casa con delle cose fondamentali, per esempio la fotocopia dei documenti, qualche genere alimentare di lunga conservazione, anche una giacca, sapere dove andarla a prendere, fare in modo che se si dovesse mai uscire improvvisamente per l'accadimento di un sisma importante, sapere che in quel luogo della casa, in quell'angolo della casa noi possiamo trovare alcune cose che ci aiutano a sopravvivere all'esterno della casa stessa, nella malaugurata ipotesi che si verificasse un terremoto disastroso che poi non ci consentirebbe di ritornare dentro la propria casa. Siamo in chiusura, ma vi ricordo che alle 20.30 potete seguire su Ciac Telesud la quinta puntata del format con tanta personalità presentato da Ronni Genovese. Potete seguire la nostra informazione sul nostro sito internet www.ciactelesud.com e restare aggiornati con i nostri social Facebook, Instagram e Telegram. A tutti buon proseguimento di serata con i programmi di Ciac Telesud. Grazie a tutti.